Vado in Africa Update, 15 minuti, 3 notizie della settimana per capire i trend del grande continente africano. Sono Martino Ghielmi, fondatore di VadoinAfrica.com, la community per chi vuole creare valore con il continente africano. Per prima cosa vi invito qui sotto a iscrivervi, se non fate già parte, del più efficace gruppo Facebook in Italia per conoscere il continente, connetter interessi e creare valore. Andiamo subito con la prima notizia. Apre a Cape Town Investec, Cape Town Art Fair, la più grande fiera africana di arte contemporanea. Ora direte, arte contemporanea, sta roba stramba, di nicchia. Ovviamente è un settore molto molto particolare e quella che possiamo appunto definire arte contemporanea africana è una nicchia della nicchia, ma è in grande grande crescita. Cioè parliamo, per capirci adesso, della fiera aperta Cape Town di oltre 420 artisti da tutto il mondo. Ricordiamo anche, per chi l'avesse magari dimenticato perché non ce lo insegnano a scuola, che l'arte contemporanea globale nasce dall'arte africana, tramite un processo eventualmente di appropriazione, copiatura, adattamento che avviene a inizio novecento. Oggi quello che sta succedendo è che sempre più artisti africani stanno portando il loro punto di vista e quindi creando novità. La differenza dal punto di vista economico è che la classe media, medio-alta, i ricchi africani, iniziano ad acquistare opere d'arte africane e questo fa costantemente crescere le quotazioni. Per capirci, Sotheby's l'anno scorso ha fatto un record assoluto, ha sta dedicata all'arte contemporanea africana, ha fatto oltre 3 milioni di dollari di vendite. Sono aperti negli ultimi anni tre importanti musei a Cape Town, appunto il Mokka, a Marrakesh, l'ho visitato l'estate dell'anno scorso, veramente bello, al Maden Makal, dove si terrà peraltro dal 22 febbraio la fiera 154, che è anche a New York e a Londra, e a Dakar, in Senegal, il Museo delle Civiltà Nere, costruito dai cinesi, ma con questa apertura verso poi tutto il mondo delle diaspora afro-caraibiche. Ecco, la differenza rispetto all'Asia è che non c'è una vera e propria capitale africana dell'arte, come può essere Hong Kong per l'Asia, ma quindi stanno nascendo diversi centri, diverse città che iniziano ad essere dei luoghi dove si crea cultura e dove si dice qualcosa di nuovo. Gli imprenditori e professionisti in ascolto che vogliono dire no, ma questa è cultura, a me interessa il business, i soldi, farebbero meglio a rendersi conto di due cose. Prima, che lo sviluppo economico, guardiamo l'Asia, deriva dall'interpretazione della modernità, della scienza, della tecnica, del capitalismo eventualmente tramite gli occhi culturali propri, ed è quello che l'Africa sta iniziando a fare. Seconda cosa è che la chiave culturale è quella che fa la differenza tra l'essere rimbalzati, come dei vecchi zotticoni in cerca dell'affaruccio così da prendi e scappa, e invece la creazione di valore nel lungo periodo, che è quello che oggi gli africani generalizzando al massimo chiedono. Però imprenditori africani, io ci lavoro da una dozzina d'anni, sono ormai corteggiati da tutto il mondo, quindi se non avete appunto la possibilità di creare, costruire valore seriamente nel lungo periodo, o incappate in cialtroni e truffatori che prendono la cassa e scappano, oppure non vi risponderanno manco alla mail, vi rimbalzeranno. Seconda notizia, parliamo di consumi nel continente. È uscito uno studio di Oxford Economics, tra l'altro l'ho scoperto da un articolo di Danilo Taino sul Corriere della Sera, che si intitola Il decollo non è un bel ponte, dove dice che lo sviluppo economico africano non dipende tanto dalle infrastrutture, ma dalle accreazioni di mercati. Io sono solo parzialmente d'accordo, perché credo che le infrastrutture siano la condizione sine qua non per poi la creazione di mercati. Fatto sta, questa ricerca dice che nel 1990 tutta l'Africa consumava circa il 20% di quanto consumavano gli Stati Uniti. Tra cinque anni, nel 2025, il livello dei consumi africani sarà esattamente il doppio, il 40% degli USA e elenca i dieci paesi dove i consumi hanno avuto una crescita più vigorosa nell'ultimo anno, tra questi il Senegal, più 8,8%, la Costa d'Avorio, il Camerun, il Ghana, tutti sopra 7%. È molto interessante notare come anche ci siano le città secondarie. Esempio, in Tanzania ben quattro città, la capitale economica, Dar es Salaam, quella politica Dodoma, ma anche Arusha e Mwanza, stanno vedendo i consumi crescere sopra il 7% annuo. Questa è una dinamica appunto imponente e che dipende in primo luogo dalla crescita della popolazione e in secondo luogo dal maggior rendito a disposizione. Crescita della classe media africana che ormai vale in aggregato più di quella indiana, ovviamente è più sparsa a livello territoriale, è molto più diversa a livello culturale e richiede quindi molta più precisione, attenzione per entrarci in relazione, per eventualmente vendere il vostro prodotto o servizio. Ecco, il grosso equivoco che io vedo fare però ancora da tante imprese è pensare che si possa vendere questi mercati in sviluppo così vorticoso standosene comodi comodi a Seregno, a Bologna oppure a Torino. Comunque pensare di esportare col vecchio metodo del mi mandano l'ordine e spedisco. Ora questo può andare bene sui beni strumentali, su alcune singole categorie merceologiche comunque necessita di un investimento in termini di scelta del mercato, costruzione di una partnership, investimento per farsi conoscere, per offrire dei servizi aggiuntivi tipo di post vendita, di manutenzione, ma è assolutamente assurdo pensare di poterlo fare su prodotti B2C, su quello che è il bene di consumo, semplicemente perché in questi contesti appunto così vorticosi, così anche destrutturati, bisogna presidiare il mercato. Chi presidia l'ultimo miglio ha vinto. Tutti gli altri possono parlare, i convegni, fare tante chiacchiere, tantissime, anzi c'è una crescita delle chiacchiere su quanto sia così promettente fare business in Africa, vendere, esportare, ma la verità è che se non si mette saldamente i piedi su terreno e con i piedi intendo nei capitali, è praticamente impossibile entrare, posizionarsi correttamente in tutti questi mercati. In questo senso la terza notizia che mi piacerebbe commentare farà sorridere qualcuno, ma fa capire quello che è la realtà delle grandi città africane di oggi, è la storia di un venditore ambulante di Lagos che ho trovato da un post LinkedIn di un sales manager di Unilever Nigeria. Parla appunto di questo Cinedu Okarafor, arrivato nel 2016 dal villaggio della Nigeria sud-orientale a Lagos, appunto megalopoli, capitale economica più grande città di tutto l'West Africa. Arrivato nel 2016 con in tasca millenaira, quindi l'equivalente di 2 euro, e i vestiti che aveva addosso. Cosa ha iniziato a fare? Come tipicamente chi arriva dalla città alla campagna ha iniziato a vendere in strada, in particolare vendere nel traffico. Lagos è una città enorme dove si resta bloccati per ore e ore nel traffico e si crea una sorta di mercato informale ambulante, ma è una cosa comune a quasi tutte le città africane che conosco, dove appunto i venditori ti inseguono dal finestrino per vendere appunto del cibo, una bibita, ma anche visto vendere dalle apparecchiature elettroniche ai soprammobili per la casa, i libri, le bandiere, qualsiasi cosa. Ecco, ha iniziato a vendere salsicce, poco alla volta ha iniziato a generare i profitti mediamente comunque sempre tra il 30 e il 40%, anche perché se ci pensate, quando uno è chiuso dentro in macchina non è che sta lì più di tanto a valutare il prezzo, se ha sete, ad esempio la bottiglia l'acquista. Ora, la notizia che metteva in luce questo manager nigeriano è che a gennaio questo ragazzo aveva un reddito di un milione di nair al mese, quindi parliamo di oltre 2.500 euro al mese. Come va fatto? Vabbè, con grinta, tenacia e contraddistingue tanti nigeriani e tutti quelli che cercano fortuna nell'economia informale delle grandi città africane e soprattutto trovando poi una sua nicchia e chiamando dal villaggio dei ragazzi più giovani di andare in una mano appunto con queste gala, le salsicce arrotolate. Ne ha portati prima 12, poi altre tanti. Oggi ha una forza vendita di circa 100 venditori. Il professionista che scriveva questo post su LinkedIn raccontava che l'ha conosciuto perché di un livello contatta quando ha prodotti in scadenza che devono essere venduti rapidamente, scontati anche del 50-60%, lui riesce a farne fuori una quantità imponente appunto perché poi sono venduti direttamente al consumatore che lo consuma tipicamente in macchina all'istante. Questo è un aneddoto però per far capire da un lato anche il dinamismo che c'è appunto nelle grandi città africane e io penso in Italia siamo veramente accecati da tutta questa narrazione legata poi al tema delle migrazioni, dell'aiutiamoli a casa loro, delle persone che sono più capaci di me e di voi che mi state ascoltando a creare un reddito e infatti in aggregato lo stanno creando, stanno nascendo e stanno sviluppando sia aziende africane di tutto rispetto per capirci ci sono già 400 aziende africane che fatturano oltre un miliardo di dollari dati di McKinsey dell'anno scorso e che hanno i controcoglioni per dire un francesismo. Quindi non hanno certamente bisogno dei nostri programmi di aiuto, peraltro quando si parla di sviluppo economico a mio parere sono nel 80% paretiano degli assoluti buchi nell'acqua, delle assolute inutilità. Però non è qui il luogo per fare questo tipo di considerazioni, piuttosto per renderci conto che chi presidia il mercato, chi presidia l'ultimo miglio ha vinto. Quindi Unilever va a parlare con l'ambulante, quindi come il piccolo imprenditore italiano che mi contatta dicendo no ma magari tu conosci qualcuno che potrebbe vendere, ma ragazzi ma sono cose appunto, sono barzellette praticamente, però mi continuano a capitare, derivano dall'ignoranza, derivano dal fatto che la gente appunto si cerca eventualmente del guadagno rapido, del pensare adesso c'è l'Africa, una miniera d'oro, i nigeriani sono 200 milioni, vado in Nigeria, sì vado in Nigeria nel senso trovo un pollo a cui vendere il container che me lo rivende, ma così non funziona appunto. O ci andate e ne pagate tutte le conseguenze sulla vostra pellaccia, oppure praticamente sono mercati molto molto difficili da penetrare. Ecco, invito poi a iscrivervi al canale YouTube Vado in Africa TV per non perdervi i prossimi video, proprio tra pochi giorni parleremo di Nigeria con l'imprenditore italiano che è un'azienda nel settore tessile a Lagos. Che dire di altro, questa è un po' la fotografia che vorrei lasciarvi questa settimana e questa è la provocazione, se volete fare business con l'Africa, guardate a lungo periodo, non al mordi e fuggi che non andava bene manco 30 anni fa, ma oggi 2020 è qualcosa di off limits, di ridicolo, di insultante. Seconda cosa, deve piacervi stare in Africa, avere i capitali per mettere a una persona di vostra assoluta fiducia permanentemente nel mercato africano scelto, che peraltro, parentesi, manco consiglio al mio peggior nemico di partire con la Nigeria. Ecco, partite con paesi più accessibili come può essere il Ghana, il Kenya, la costa d'Avorio, l'Uganda, ce ne sono tanti, non certo la Nigeria. Dove se non sapete muovervi, non combinate semplicemente nulla, finite vittima di truffe, di ciarlatani, e dove è necessario entrare con capitali decisamente più importanti che quelli degli altri mercati. Ovviamente nel caso abbiate la licenza di operare in loco, che appunto non è ovviamente cosa semplice da ottenere per un non nigeriano, quindi in questo senso dimenticatevi appunto le favolette di chi dice eh, sono 200 milioni, se vendo questa penna, vendo solo al 10% nigeriani e ho venduto 20 milioni di penne. Eh, va bene, le favole sono belle da raccontare, ma la realtà è differente. Se ci sono domande, sono qui ancora per un minuto, altrimenti vi do appuntamento a settimana prossima, ecco qua, vi sarà venerdì 18.30, il prossimo Vado in Africa Update, sono tre notizie di attualità, economia, società africana per individuare dei trend e provare a guardare questo continente da una prospettiva un po' diversa da quella che vedete magari sui mass media o che avete in testa per stereotipi, luoghi comuni, semplificazioni che vi portano solo a farvi del male. Ecco, in questo senso poi il mio invito è quello di iscrivervi già oggi, subito, ho finito questo video, alla Community di Vado in Africa, è un più grande gruppo Facebook italiano per chi vuole creare valore con il continente africano, quindi imprenditori, professionisti, abbiamo anche artisti creativi. Non è quello che magari avete in mente, il gruppo Facebook dove ognuno posta le sue robe, spam, insulti, cretinate, come sono tanti gruppi Facebook in particolare sull'Africa, no, nel nostro si parla solamente di progetti personali, di progetti professionali, ci si aiuta, si collabora, si mettono a fattore comune contatti, esperienze, errori, tantissimi errori che è possibile evitare semplicemente parlando con chi ha già fatto qualcosa, parlando con chi già vive in loco, andando a confrontarsi con chi è nato e cresciuto in un contesto e sa dare appunto degli spunti che non siano le solite banalità, semplicemente appunto del PIL che è cresciuto del 4,1-4,2. Ragazzi, il PIL in Africa cresce e crescerà, non è la misura più interessante da guardare perché appunto, peraltro, gran parte dell'economia hanno fortissime sacche di informalità, le statistiche valgono quello che valgono, ma il trend da guardare è quello demografico, il fatto che l'Africa è il continente più giovane del mondo, metà degli africani ha meno di 20 anni e nel 2050, quindi tra 30 anni, la popolazione africana sarà raddoppiata. Se siete intelligenti, andate a approcciare con curiosità questo continente, con rispetto, andate a parlare con gli africani, andate a capire come appunto la vostra vita professionale, le vostre competenze, i vostri capitali, la vostra azienda, se siete imprenditori, può andare a lavorare a fianco dell'Africa, ma non tanto per svilupparla, perché si sta già sviluppando da sola, non ha bisogno né di me né di voi, ma per costruire qualcosa di bello, qualcosa che resti, che crei valore, che risolva problemi e duri nel tempo. Questa è un po' la filosofia di Vado in Africa, se vi piace iscrivetevi alla community. Detto questo, buon weekend, ciao a tutti e alla prossima!